Si conclude l'ottava edizione del Memoria di Jacopo Menchi. È il Milan a giudicarsi la vittoria battendo in finale la Fiorentina, al termine di una partita equilibrata e tirata. Sono serviti i calci di rigore per decretare il vincitore. Complimenti mister, è una vittoria sofferta ma comunque meritata. Sì, credo di sì, la Fiorentina è un'ottima squadra, l'abbiamo incontrata anche la scorsa settimana a Nicolo Galli, sapevamo che non era facile, non era scontato. È un momento che i ragazzi stanno bene, anche se arrivare in fondo, ormai è il quarto torneo che arriviamo proprio fino alle ultime gare, non era dura, cioè non era facile. Oggi i ragazzi è andato tutto, erano un po' stanchi, un po' di imprecisione nella fase offensiva e poi stavolta finalmente è andata bene ai calci di rigore, quindi contenti, bene, un torneo bello, squadre importanti, siamo trovati bene, tutto bene. Il torneo, organizzato ogni anno dalla Pietà 2004, ha visto affrontarsi squadre di livello internazionale. Oltre alle finaliste, i tanti spettatori hanno ammirato squadre del calibro di Juventus, Udinese, Siena, Livorno ed Empoli, ma anche i russi dello Stroghino Mosca e del CSKA e di danesi dell'Ingbi. I ragazzi della Pietà 2004 dovevano accontentarsi del dodicesimo posto, mentre il Prato, campione in carica, non va oltre il nono. Come reputa questo ottavo trofeo Menchium? È andato benissimo, sotto tutte le previsioni possibili, da un punto di vista tecnico, di affluenza del pubblico e quello che ci interessava particolarmente anche il tempo, le condizioni atmosferiche che ci hanno aiutato. Belle squadre, partite sane, intense, tutti contenti. Per il prossimo anno, che già stiamo facendo solo dei pensieri, vorremmo portare una squadra spagnola, una tedesca e un'araba.